New Travel Services, Sicily, tailored for tourists. Partendo da Palermo, in circa un'ora e mezza, arriveremo a Cefalù, cittadina antichissima affacciata sul mare. Cefalù è la seconda destinazione turistica estiva della Sicilia, scelta ogni anno da migliaia di vacanzieri. Grazie alle informazioni che i nostri autisti vi daranno durante il tragitto, potrete visitare da soli, autonomamente, a piedi, il centro storico, con la piazza del Duomo e la famosa cattedrale, dagli splendidi mosaici normani ricchi di ridecorazioni, con un imponente Cristo Pantocratore. Uscendo dalla chiesa noterete alcuni antichi palazzi storici, come il medievale Palazzo Maria dal portale gotico, il Palazzo Vescovile. Ecco poi Corso Ruggero, la strada principale, pedonale, ricca di negozietti di souvenir, costruita sull'antico Decumano, il reticolo originale delle strade romane sezionato sull'asse nord-sud. Ed ecco l'antico lavatoio, tutt'oggi funzionante. Al vostro ritorno in auto, i nostri conducenti vi porteranno su per le colline in direzione Castelbuono, all'interno del Parco delle Madonie, ricco di verdi boschi. Castelbuono è un interessante paesino del 1300, costruito intorno al castello di Ventimiglia, una nobile famiglia siciliana. La costruzione, fortificata, ampia e squadrata, non ha subito grandi rimaneggiamenti durante i secoli e può essere visitata con un piccolo prezzo aggiuntivo. Siamo anche nel cuore del Parco naturale regionale delle Madonie, dove la natura è sovrana e dove i sapori sono genuini, come potrete scoprire, se lo vorrete, presso qualcuno dei ristoranti locali, per una colazione non compresa nel prezzo. Infine, rientreremo a Palermo. Scegliete questa proposta, tra l'itinerario arabo normanno della provincia di Palermo, il verde e la natura, prenotate subito il verde dei boschi di Cefalù e l'azzurro del mare, con questa proposta di Sicilia Airport Transfer, numero uno per visita in Sicilia.